Ciao, io sono Lara e ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, ho fatto 30 anni e mi sono regalata un po' di fumetti e di questo ti parlerò in questo video, buona visione. In realtà non è proprio vero, nel senso che in questo video tu vedrai, c'è una pila alla mia destra, tu a sinistra direi, in cui sono contenuti effettivamente dei fumetti che mi sono regalata con dei buoni che mi hanno regalato per il mio compleanno, dei fumetti che mi sono regalata io per il mio compleanno senza ragioni particolari e un paio di prestiti, sono così fortunata ad avere amici che mi prestano e mi regalano fumetti, devo dire la verità. Quindi ti parlerò di questo essenzialmente in questo video. Non so se lo noti, ma sono 20 titoli e sono 20 titoli che io ho selezionato in questo modo. Due settimane fa mi sono messa a questo tavolo e ho messo in mezzo al soggiorno una pila di fumetti, che è questa, mi sono detta io leggo questi e ne parlo sul mio canale. In realtà ho letto dell'altro, se mi segui su Goodreads saprai più o meno esattamente quello che ho letto, che è questo più altre cose, però volevo effettivamente parlarti di questi, di questa pila, di come l'ho affrontata, di come è andata e non appunto del resto che mi serve. In un caso per preparare i video che vedrai a dicembre, ti spoiler o fra virgolette, ti rivelo che anche quest'anno farò un avvento, quindi dei frammenti di video che pubblicherò senz'altro su Instagram, ora vedremo sugli altri social network e che vedrai tutti i giorni. Se non te ne parlo di più, nella descrizione di questo video ti lascio l'avvento franco-belga, che era l'esperimento dell'anno scorso, così vedi un po' di che si tratta. Ti dico solo che quest'anno non parlerò di fumetto francese. Detto questo, è una pila che va in ordine di dimensioni, se mi segui da un po' saprai che è così che io tengo insieme queste pile, quindi dai più piccoli ai più grandi. Direi che la premessa è stata già sufficiente, ti dico solo che non parlerò molto delle trame di questi fumetti, così che è da riuscire a parlarti di tutto senza fare un video chilometrico. Gelosy, questo è un esperimento. Come sempre io leggo numeri 1 di qualsiasi cosa, soprattutto dei manga. Qui si tratta di un manga che mi ha colpita per come ha disegnato, perché ha disegnato veramente in maniera elegante, e tutte le scene di nudo che ci sono, sono ben fatte. Questo dà soddisfazione in una storia del genere. Detto questo, la vicenda è un pastrocchio pazzesco, a mio avviso. Il soggetto dovrebbero essere le diatribe della Yakuza, che coinvolgono più o meno direttamente questo che vedi in copertina, che è il suo protagonista, che è un masochista a molti livelli, e che effettivamente seguiamo più nelle sue capriole, le ho chiamate sotto le lenzuola, più che in quella che è la vicenda che dovrebbe coinvolgerlo direttamente nella Yakuza. Tanta carne al fuoco allo stesso tempo, poca carne al fuoco in questo primo volume, che non mi ha convinta al punto di andare al volume numero 2. Questo è pubblicato da J-Pop. Probabilmente mi piacerebbe leggere qualcos'altro di questa Berico, che ne è l'autrice, perché il segno mi ha colpita molto. Free Eren, sempre numero 1, sempre J-Pop, questa è la copertina Variant, l'ho scoperto dopo averla comprata, leggendo sul retro, costa uguale a quella normale, ne cambia il soggetto. Allora, è ancora in questo caso un esperimento che io faccio, questo invece lo continuerò, perché stiamo parlando di un gruppo di protagonisti, che hanno effettuato quella che nel gergo, diciamo, si chiama una quest, una missione, no? Ne sono tornati vincitori, e tu li prendi in quel momento lì, quando loro tornano vincitori dalla missione, non durante la missione, non gli anni che hanno portato a quel raggiungimento, diciamo, ma cosa faranno della loro vita dopo. In particolare lei, che essendo un elfo, si attende una lunga vita anche dopo quella missione. Dicevo, il numero 1 mi ha convinta, al punto da continuare a leggerne la lettura, considerando che non c'è la fascetta, magari ti faccio già vedere il contenuto del fumetto, perché non so a schermo se riuscirò ad avere il tempo di mostrarti delle tavole. Anche questo era pubblicato da J-Pop. Moe Mac and Stone. Questa è la seconda raccolta delle loro strisce, e mi sono preparata qua, perché in questo caso avevo i cartacelli da mostrarti, la precedente. Questo qua era la raccolta delle strisce del 2016-2017, che fra l'altro somiglia moltissimo, è la stessa identica edizione della raccolta nuova. Questa era la fanzine con gli stessi protagonisti, e questo è l'Isola Fantasma, che ne è lo speciale che io consiglio sempre per conoscere per la prima volta i protagonisti di Moe Mac and Stone. Questo è un volume, insomma, di cui ho parlato anche sul mio blog, quindi ti lascio l'articolo nella descrizione di questo video. Dicevo, mi sono letta la seconda raccolta 2018-2019 delle strisce giornaliere. Dunque, questa è un'autoproduzione. Nonostante, credo di avertelo già detto, loro scegliano sempre una qualità tipografica notevolissima. Allora, io avevo letto tutti i giorni questa striscia dal momento in cui l'ho conosciuta. Trovi un'intervista a questi autori sul mio canale, e così diciamo che puoi avere un'infarinatura di quello che è. In più, online, loro pubblicavano, ripeto, come webcomic, la striscia tutti i giorni, e quindi tu tuttora sul loro blog e sulla loro pagina Facebook puoi andartelo a leggere se vuoi provarlo. Quello che ti posso dire è che se li contatti loro sono in grado appunto di vendertene anche una copia cartacea. Detto questo, si tratta di una raccolta di due anni di fatiche, sono tutte strisce in bianco e nero, sono tutte strisce disegnate da Marco Forcelloni, e scritte da Gianluca Monari. Hola! Io sono leggermente di parte, te lo dico subito, nel senso che entrambi sono diventati miei amici negli anni, e a leggerli, a leggerli qui dentro, ce li rivedo tantissimo, vedo tantissimo di quella che è l'arte di Marco, e vedo tanto di quella che è l'ironia di Gianluca. Però, se tu non hai questi elementi, chiaramente io ti consiglio di provare, che sono in questa raccolta, i tre racconti lunghi, che sono le loro parodie del Conte di Monte Cristo, del Nome della Rosa e del Canto di Natale di Dickens, che sono una più bella dell'altra. Te le consiglio molto più di quella che è stata, invece, il resto della raccolta giornaliera. Se li conosci, ci sentiamo nei commenti, mi dirai se ti ho dato un buon consiglio o meno. Io sono un gatto, questa è la trasposizione a fumetto, se vuoi, in manga, trattandosi di fumetto e di romanzo giapponese, del romanzo omonimo. Allora, questo è pubblicato da Edisoni Lindau, primo volume che io compro di queste loro trasposizioni, dal punto di vista tipografico delle edizioni, eccetera, mi ha molto soddisfatta, ne sono contenta. Il fatto che la storia sia dal punto di vista del gatto è sicuramente originale, perché vedi cose che da umano non vedresti e non vedresti allo stesso modo, ha un finale molto giapponese, te lo voglio dire. Quindi, se non sei abituato a leggere cose di questo tipo, ti avviso che è una di quelle cose che ti lasciano un attimo della serie A. È finito così, fantastico. E io cosa me ne faccio di questo finale? Ecco, come spesso accade con la roba giapponese, io ti consiglierei di fartene una bella riflessione e di arrivare a quello che è il tuo finale che è diverso da quello di tutti gli altri. Qui si tratta di edizioni Star Comics, un fumetto filippino che avevo la fortuna di attendere da tempo, perché, seguendo autori da tutto il mondo, una autrice filippina aveva detto tempo fa di quanto le fosse piaciuta questa storia e perché. Allora, dunque, il perché, non so se riesco a fartelo arrivare, chiaramente, però, se tu mi segui da tempo, saprai che tutto quello che ha a che fare col sovrannaturale, in particolare con la mitologia, di qualche altro posto, io lo leggo volentieri. Qui hai folklore e mitologia filippina, quindi già mi racconti qualcosa che io non conosco bene, dimmi tutto quello che hai da dirmi. In più, il segno di questo illustratore, di questo fumettista, è molto originale, graffiante, a un modo di tratteggiare costoro che mi è piaciuto moltissimo, dal cavallo allo spettro, a quello che è, tutto mi è piaciuto e non vedo l'ora di andare avanti con questa lettura. Ti dirò questo, io che ho letto un po' di roba di questa faccenda, ok? Ci rivedo tante altre cose, per dirne una che potresti aver visto anche tu, la serie televisiva Supernatural. Ecco, va un po' da quelle parti lì, però, secondo me, ci va molto bene. Dove ci vedo dei richiami, ce li vedo che non mi infastidiscono. Quindi io ti consiglio molto questo fumetto, che potresti chiamare Trez o Treze, o chiamarlo come ti pare, in ogni caso ti consiglierei di provare a leggerlo, perché io aspetto a questo punto i volumi successivi. Questo è Orochi, roba orrorifica, propongono come rubrica, come dicono, con l'anano rubrica, Star Comics, con questa etichetta, questo tipo di storia. Allora, cerco di farti vedere una cosa che orrorifica non sia. Ecco qua, ti dirò che questo è un segno un po' vintage. Lui disegna come disegnavano le persone qualche decina di anni fa in Giappone. Di che si parla? Si parla di storie brevi, un po' disturbanti, assolutamente, che hanno come, in qualche modo, personaggio ricorrente, lei. Ora, disturbanti sì. se ti ci fermi un po' a pensare anche di più forse di quello che possono limitarsi a essere nelle pagine, nel senso che puoi pensarli trasposti sulla vita di tutti i giorni e allora diventano anche un pochino più inquietanti. Detto questo, però, una volta chiuso il volume, non mi hanno lasciato molto e visto che sono volumi anche un po' costosetti, non andrò avanti nella lettura. Poi ti voglio dire che ho letto Alla ricerca del Dottor Mambuso, che è l'ultimo volume di Pop and Friends. Ti faccio vedere quelli che erano il numero uno e lo speciale perché li ho fatti vedere, credo, su Instagram e altrove, ma non qua, su YouTube. Trattasi di autoproduzione pensata per un'età scolare, specificamente anche per le elementari, senza problemi. Puoi leggerla a un bambino che non sa ancora leggere e che guarda le figure oppure fargliela leggere da solo, assolutamente. Un cast vario pinto di personaggi che mi piacciono tutti, Titan e il suo protagonista che mi è del tutto indigesto. Ti faccio vedere lo sketch che mi ha fatto Canovi su questo numero. Allora, dicevo, fantastico, fantasioso, originale. Mi è piaciuto molto il fatto che nell'ultimo numero, fra l'altro io stavo già dando gli i miei consigli imperdibili e invece nell'ultimo numero già rientrano un po' in pista con alcuni di quelli che trovavo a essere i nei di questa storia che sono cose che danno fastidio a me. Per esempio, il loro font, secondo me, poteva essere migliorato ed è buffo che in questo alla ricerca del Dottor Mambuso sia già meglio rispetto ai volumi precedenti. Quindi sappi che come spesso accade con le autoproduzioni hanno ampio margine di miglioramento. I disegni, te l'ho detto, sono di Canovi, ti faccio rivedere che invece i testi sono di Giulia d'Achille che io ho incontrato entrambi in diverse occasioni perché sono degli autori liguri. Se ti può interessare sul mio blog trovi un articolo proprio sugli autori liguri che comprende anche loro due. Blu nella terra dei sogni. Questo perché io l'altro giorno ho fatto questa pila, l'ho messa sulla tavola e ho detto leggo questa perché questo, per esempio, era finito letteralmente dietro ad altri volumi e non l'avevo più letto. Invece l'avevo preordinato da anteprima, da tanto aspettavo di leggerlo, di scoprire se la copertina fosse tanto fumo e poco arrosto come a volte accade. Allora, questo ha un odore chimico terribile questa carta qua secondo me ma il contenuto mi è piaciuto un po' onirico una sorta di urban fantasy ambientato quindi ai giorni d'oggi ma con un elemento magico che convince. Andrò avanti con questa lettura e senz'altro mi è rimasto come ricordo ecco quelle che sono le palette cromatiche le scelte o a volte anche i colori ti lasciano diciamo anche delle emozioni portano emozioni con sé. The Fiend in questa pila avevo il volume 4 ti faccio vedere velocemente perché me li sono preparati i primi tre ti faccio vedere giusto le copertine su questo canale trovi un'intervista a Pietro Gandolfi che ne è lo sceneggiatore e qui è coadiuvato dai disegni di Luca Panciroli Luca Panciroli che fa altro anche e in vesti molto diverse ti faccio vedere una tavola che è un po' meno spoiler di altre che è questa qui in questa sede in The Fiend secondo me tira fuori il meglio di sé un nerissimo veramente graffiante è un fumetto un po' incisivo che però è in grado di lasciare qualcosa dopo che è stato letto io la vedo così ed è pubblicato in Spillati che puoi acquistare presso la sua etichetta che è Midian lui pubblica anche altro ti ripeto in quel video magari può presentarti meglio con le sue stesse parole chi è e cosa fa nella vita mondo reverso questo è un fumetto della Magic Press di cui io ho preso il numero 1 in fumetteria ordinando già gli altri a scatola chiusa perché le tavole di questo volume mi avevano molto convinta uno stile un po' cartoon come si suol dire sui toni del seppia che aveva di che raccontare secondo me ti faccio vedere questo lato perché l'altro mi sembra che sia un pochino più censurabile di che si tratta un'inversione di genere e di ruoli nella società western quindi i cowboy sono tutte donne le sguattere le prostitute dei bordelli eccetera sono tutte uomini ora ti invito a leggerlo non ti dico di più è ovviamente grottesco ed è una provocazione in essere ok non te lo devo spiegare direi che si commenta da solo quello che ti voglio dire è che secondo me una volta che hai chiuso il volume e te ne sei andato a dormire non è che torni a rifletterci per delle ore o che ti faccia scoprire la verità su te stesso e sui massimi sistemi però in questo senso come provocazione sul genere western che è un po' un po' granitico in alcuni dei suoi stilemi allora mi è piaciuto e leggerò anche i seguiti Asterios Polip questo è un prestito io ci arrivo molto tardi perché io volevo l'edizione inglese che costa meno perché sono genovese e io queste cose ci faccio sempre caso però comunque negli anni ho avuto la fortuna adesso di arrivare a questo volume che mi è stato appunto prestato ti faccio vedere due tavole ecco qua allora cambia il segno di Mazzucchelli in questo volume come cambia anche il suo protagonista che ha un'evoluzione sua interiore l'intero volume è pensato e disegnato in modo da risultare come la creazione la creatura di un designer di un architetto lo vedi anche da come è presentato a livello tipografico quali sono i colori scelti come è il ti faccio vedere ecco un'altra tavola così ci capiamo un attimo come è che in un solo volume lui cambi così tanto il suo modo di raccontarti qualcosa la sua grammatica come illustratore che dirti indubbiamente capisco perché abbia influenzato altri autori altre cose perché ce lo tramandiamo negli anni di storia del fumetto Octave l'integrale questo è ovviamente la raccolta di una cosa che invece era stata proposta anche in più volumi trattasi di fumetto francese pensato per un pubblico giovane come vedi dalla collana di tipi tondi che smussa anche gli angoli a me non è piaciuto nel senso che mi sta molto sulle scatole protagonista mi sta sulle scatole quello che fa quello che dice come lo fa quindi effettivamente non sono la sua lettrice ideale però mi ha affascinata il rapporto soprattutto con alcuni animali vedi questo qua in copertina quindi io penso che a un pubblico più giovane che non è rompiscatole come me possa anche piacere altro prestito della stessa persona che mi ha prestato a stereospolipa mostri Barry Winson Smith di questo non te ne parlo molto non perché non ci sia molto da dire ma perché è un volume un po' indigesto un po' difficile che mi è piaciuto molto non vorrei sparare qua tre fesserie sull'argomento ti dirò che nella descrizione di questo video troverai l'articolo che io ne ho scritto sul blog perché ultimamente sto cercando di darmi una mossa e scrivere un po' di più ti faccio vedere due tavole che non hanno molto a che fare con la trama principale sono due scene domestiche un po' più tranquille secondo me qui Barry Winson Smith è veramente in stato di grazia un autore che se non hai mai visto puoi scoprire sfogliando questo volume in libreria infometteria dove ti pare secondo me vale la pena di essere scoperto posto che il mondo lo ha scoperto tanti anni fa ripeto materia un po' indigesta anche solo perché si ha a che fare con i nazisti con la seconda guerra mondiale PTSD te le butto così ma ci sono tanti elementi un po' difficilotti in questo volume da 365 pagine che comunque vale la pena di essere letto ti dico io è il mio preferito di questa carrellata Batman Gotham by Gaslight è un what if in questo caso cosa sarebbe successo se Batman fosse ambientato nell'epoca vittoriana spoiler se c'è Mignola la cosa migliora drasticamente ve lo dico già ti faccio vedere due tavole abbastanza ripeto anche questo caso a caso sapevo di poterle mostrare un po' più tranquillamente un formato di ampio respiro che indubbiamente come dire valorizza queste tavole una storia abbastanza ordinaria di Batman per quanto invece l'ambientazione non lo sia era nei consigli del mio ex fumettaro di fiducia solo perché non fa più quel mestiere non perché io non lo ascolti più infatti me lo sono riletta in questa bella edizione invece che come dire accontentarmi di quello che era il ricordo dell'edizione becera in cui lo avevo letto in precedenza nonostante tutto qua vado un po' rapida perché io ti ho già parlato dello stesso autore con un'estate fa e te ne ho parlato nell'avvento franco-belga te ne ho parlato altrove un'estate fa è un volume 1 Bao invece questo è un volume unico se il modellista qua non si ammazza col neon è meglio ok dicevo volume unico Bao Publishing di questo autore che dal punto di vista di come disegna le cose non ha bisogno che nessuno gli spieghi niente per quanto riguarda invece come si racconta una storia di questo tipo a una lettrice come me che puoi leggere questa cosa come ti pare in molti modi anche una lettrice antipatica allora secondo me il discorso cambia sul gruppo di lettura abbiamo già fatto qualche commento a riguardo a mio avviso per una pessimista come me questa è una storia che vuole essere a lieto fine che vuole interpretare felicemente determinati sliding doors che i protagonisti incontrano nella loro vita e che io ho trovato un pelo forzati cioè a questi le cose vanno bene mi fa piacere per loro ma gli va un po' bene sempre per il rotto della cuffia e forse forse dico forse secondo me non gli sarebbe andata così bene se non fossero stati dei personaggi di finzione tu mi dirai è il bello della fiction certo naturalmente ci mancherebbe però un pochino questo mi ha spuntato mi ha smussato la il pathos forse che può avere questa storia si tratta comunque di una storia d'amore che coinvolge più di due persone anche solo per il fatto che li prendiamo in diversi momenti della loro vita e quindi non sono gli stessi di 20 anni 30 anni prima una grande coccente delusione Sir Gulliver guarda te lo faccio vedere tutto Sir Aladin Gulliver Simbad Munchausen Jr contavo molto su questo volume tant'è vero che l'ho comprato in un'edicola dove non pensavo di trovarlo ti dico già questo poche pagine tanti euro quindi ti metto in guardia da questo la prima parte del albo immagino possa interessare solo a persone come me che vanno a leggersi volentieri pezzi di storia del fumetto perché è un lungo editoriale e poi abbiamo le storie di questo protagonista che ti faccio vedere in queste due tavole che si possono agevolmente mostrare a differenza del resto del volume perché? perché questo integerrimo gentleman inglese che fa parte di un club per soli uomini eccetera eccetera sostanzialmente per condurre le sue indagini passa il tempo a sottuffarsi su questa o quella meretrice perché nel dubbio vetti che lei ti dica qualcosa di utile non si sa mai ecco il pretesto è un po' deboluccio a mio avviso tant'è vero che se vuoi leggere una cosa del genere io ti invito a scegliere Grimm Manor della Bau Publishing Aldo Brando questo è il secondo volume insieme a mostri che mi sono regalata con un buono che mi avevano regalato da Feltrinelli l'anno scorso non arrivavo a questo dal punto di vista economico sono contenta di averlo recuperato in tempi meno sospetti posso massarti tranquillamente queste tavole che non sono grandi rivelazioni in termini di trama i disegni di Critone qui sono decisamente gradevoli e mi è piaciuto tuttavia mi è mancato quel quid in più che non so se sia mancato nella sceneggiatura di Gipi o semplicemente nel mio raccogliere questa storia qui Pietro Gandolfi di cui ti ho parlato con The Fiend prende il suo soggetto di Warbringer che trovi in due volumi spillati e ne fa una parodia insieme a Michele Carminati di cui ti ho già parlato con Valgaard che è un fumetto umoristico che ha come protagonista un vichingo qui hai a che fare effettivamente con i vichinghi tant'è vero che loro la definiscono un po' parodia di Warbringer ma anche un po' parodia di una storia di Howard tant'è vero che il sottotitolo è La torre dell'ippopotamo mi è piaciuto tra l'altro in questo formato ovviamente ti godi anche di più le tavole di Carminati quello che ti voglio dire è che la serie principale io ti consiglierei di leggerla prima sono due spillati e sono più economici di questo di questo qui che ripeto è un'edizione deluxe più grande in brossura eccetera quindi prova magari prima l'edizione principale se poi ti piace vai a leggere lo speciale questo è il mio consiglio lo puoi leggere comunque perfettamente se sei già fan di Howard di Conan il Barbaro in generale io direi poi magari mi correggerai l'ultimo prestito di quell'amico che mi ha prestato le cose precedenti è questo Mezzolit in due volumi uno e due pubblicati da Diabolo Edizioni lui li ha comprati insieme a me e mi ha detto se fai la brava poi te li presto credo che aver fatto trent'anni sia la mia versione di ho fatto la brava detto questo facciamo vedere due tavole facciamo io e quale esercito non si sa ma comunque facciamo vedere due tavole allora lo stile qui è praticamente fotografico ed è buffo che lo sia perché stiamo parlando di una storia ambientata nella pre-istoria quindi da qui non ti aspetti un determinato realismo ti aspetti come dire un qualcosa tipo flashback un qualche eco venuto dal passato invece ti viene raccontato come se fosse storia di oggi come se tu fossi lì a predire il futuro nelle ossicine delle creature a vedere quale sarà il destino del tuo villaggio in base alla caccia al bisonte eccetera sicuramente mi è piaciuto ho trovato più d'effetto il numero 1 rispetto al numero 2 trattandosi di una serie in due volumi ovviamente riesci a dire molto ma allo stesso tempo si tronca prima di dire tanto di più devo dire che però è una opera interessante di autori che non avevo mai letto in precedenza e che ti consiglio di provare in questa sede io sono abituata a leggere un po' quello che mi pare e quindi questa è una selezione poco uniforme mi rendo conto di titoli e di fumetti però ti voglio dire che invece a dicembre poi tu troverai una selezione organizzata e pensata su un argomento che avrà un filo conduttore non sarà così come sono i miei video sulle letture tuttavia un po' di tempo fa ho chiesto ricevuto consensi a proposito di continuare qualche video periodico sulle mie letture avevo di là in realtà un'altra pila precedente di fumetti ma pensavo e di qualche libro peraltro ma pensavo che fosse più interessante raccontarti un po' più a caldo quelle che sono state le letture delle ultime due settimane essenzialmente con questo proposito ho letto qualcosina in più se mi segui su Goodreads lo sai non ne faccio un mistero che non sono esattamente una lettrice lenta detto questo sappi che ogni modo di leggere come io ho detto in tanti casi sul mio canale è parimenti valido non farti influenzare ti dico una cosa che ti sembrerà forse idiota ma non farti influenzare dal fatto che io metto insieme delle pile del genere con una certa frequenza sappi che io leggo normalmente moltissimo in digitale e mi ha fatto piacere invece avere questa selezione di titoli da mostrarti fisicamente ringrazio fra l'altro l'amico che mi ha prestato un po' di volumi anche perché so che per te che guardi questi video vedere le copie cartacee è anche un po' più bello ti fa capire forse se investire i tuoi i tuoi euretti in volumi di questo tipo tenerteli per comprare qualcos'altro che è quello essenzialmente che io faccio e che riesco a fare anche perché investo adesso denaro e tempo sulle copie digitali o addirittura sui webcomic che controparte cartacee hanno un anno fammi sapere se hai letto uno o più di questi titoli se qualcuno ti ha incuriosito se in qualche modo ripeto mi ci ritrovi anche in questa selezione che mi accompagna se vuoi con quello che è stato il mio recente compleanno perché io sono del 6 ottobre oggi è l'uno di novembre di Luvia io sono a casa e non a Luca Comics e vorrei che fosse chiaro per scelta quest'anno spero che l'anno prossimo invece sempre per scelta invece mi troverò fra quelle vie e ti potrò raccontare di altri fumetti che magari avrò conosciuto in sede toscana detto questo io ti saluto ti lascio i link che ti ho già menzionato nella descrizione di questo video e ci vediamo alla prossima grazie a tutti